ciao ragazze oggi un nuovo video tutorial vi farò il tutorial di questi orecchini molto belli con del materiale nuovo che trovate da bismine niente sono leggermente bombati molto usato questi colori un po accessi però molto belli volevo dirvi che volendo si può anche inserire un rivoli perché essendo già bombato al rivoli va perfettamente facendo degli archetti ma magari tra tra le crescent da vedere e quindi avremmo questo effetto che anche guardate molto particolare io li ho lasciati in questo modo però se volete fare magari il ciondolo e aggiungere il rivoli sarebbe molto bello niente fatemi sapere sempre cosa ne pensate io ho attaccato questa monachella anche se non mi piace tanto poi vedrò se rimanere questa o toglierla e niente fatemi sapere cosa ne pensate e vi elenco il materiale ciao il materiale che useremo sono delle round 2 da 5 millimetri sono delle perle a doppio foro poi useremo le vexolo di questa colorazione useremo le crescent di questa colorazione poi ci occorrono le quad beats penso che se usate le beats andrebbero benissimo uguale sono bronzo poi avremmo bisogno delle e qui sono queste sono le perline nuove che ha beats mine sono le round drop duo 5 per 7 millimetri sono così piccole ma sono molto belle poi useremo delle rocaille 15 0 11 0 8 0 delle miyuki le duracot ci occorreranno delle 15 0 bronzo sempre della miyuki e il filo far line da 12 mm quindi il materiale l'ho elencato possiamo andare con la lavorazione partiamo con inserire sul lago una round duo da un foro una quad beats o una o beats è uguale una round drop duo e un'altra quad beats lo facciamo per quattro volte poi rientriamo dalla parte opposta in tutte le perline facciamo dei nodi con il filo fatto questo mi sposto un po con il filo dove abbiamo fatto il nodo e salgo nel foro superiore di una round drop drop duo quindi ora prendiamo sul lago una quad beats una crescent in questo modo una 11 0 8 0 11 0 di nuovo una crescent e una quad beats e vado nel foro superiore della round drop duo in questo modo dobbiamo fare il giro questo modo tranquilli che se si muove che poi lo fermeremo con delle perline delle rocaille facciamo il giro in questo modo quindi abbiamo fatto questi e questo giro vi dico anche che io ho usato un filo molto lungo in modo che quando finisce da questa parte vado a riprendere quello che ho lasciato dall'altra parte ora io sto uscendo da la 8 0 ora dobbiamo ripassare ma nel ripassare facciamo questa lavorazione sto uscendo da una 8 0 prendo sul lago una 15 0 oro due 15 0 bronzo e una oro mi inserisco in questo foro della perla della ra ra un duo come sapete ci sono due fori quindi nell'altro foro che rimane vuoto di nuovo una 15 oro due 15 bronzo e una oro e rientro sempre nella 8 0 passo nella 15 nella 11 0 questo modo tiro bene e proseguo nella crescent proseguo fino ad uscire dall'altra parte dall'altra dalla prossima 8 0 e ripetiamo lo stesso inserimento di rocaille una volta finito questo giro dovremo ripassare di nuovo nella lavorazione dobbiamo ripassare perfettamente per come stiamo lavorando adesso dopo questo giro avremo questo vedete le perle si sono sollevate io dico perle ma sono le ra un duo quindi ora esco da questa 8 0 prendo sempre sul lago una 15 oro due bronzo e una 15 oro e vado nel foro superiore della crescent ora prendiamo una 18 0 una crescent una vexolo una crescent una 80 quindi in questo modo vado vado nel foro superiore della crescent vado nel foro superiore della crescent avremo questo ora ancora una 15 0 oro due bronzo e una oro e mi inserisco di nuovo nella 8 0 in questo modo facciamo il giro inserendo queste perline questo è quello che avremmo ottenuto naturalmente me ne sono accorta che avevo inserito tre rocaille bronzo quindi ne ho tolta una ora usciamo dovremmo ripassare ma nel ripassare facciamo questo passaggio usciamo da questa 15 0 prendiamo sul lago un'altra 15 0 una 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 round drop 2 una una quatt beats un'altra round drop 2 e una 15 0 e mi inserisco dentro la 15 0 Passo nella crescent, dentro la 8.0, crescent, vexolo, crescent 8.0 e esco di nuovo da questa 15.0. Quindi dovremmo fare il giro in questo modo. Ci vediamo dopo. Fatto anche questo giro, ripassiamo nel lavoro. Ora, io sto uscendo dal foro della crescent. Prendiamo sull'ago 3.0.15.0 bronzo e vado nel foro superiore della round drop duo. Ora prendiamo una quad bit, una 8.0 e una quad bit. E andiamo nell'altro foro della round drop duo. Prendiamo nuovamente 3 rocaille 15.0 bronzo e mi inserisco nel foro della crescent sottostante. Ora invece prendiamo 3.0 euro e vado nel foro superiore della crescent. Mi inserisco anche in quella della vexolo ed esco dal foro della crescent. prendiamo di nuovo 3.0 euro e vado sempre nel foro della crescent sottostante. solo nel foro della crescent sottostante. Con un po' di pazienza. non sono uscita dalla crescent. Quindi adesso sono uscita perfettamente dalla crescent. Ho preso le 3.0 euro e mi sono inserita nel foro della crescent sottostante. Ora ripetiamo l'inserimento delle 3 rocaille 15.0 bronzo eccetera eccetera. E facciamo il giro in questo modo. Una volta finito il giro ripassiamo nel lavoro. Eccovi il risultato dal nostro lavoro. Ho ripassato. Ora non mi resta che fare dei nodi con il filo e tagliare il filo. Naturalmente io preferisco aggiungere qui in una 8.0 un anillino per poi attaccare la monachella o il perno. E quindi verrà in questo verso. Se qualcuno piace in questo verso dovrà fare il cappietto in modo da poter poi attaccare la monachella. Naturalmente potremo aggiungere anche una goccia sotto. Chi vuole, chi piacciono gli orecchini un po' più importanti. Altrimenti basta aggiungere la monachella sopra. Niente, il lavoro è terminato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao e alla prossima!